weee non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone da yeee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragao si sparano di già sfida di oggi ragazzi quella di cercare nelle ghiacciaie quale sono le ghiacciaie sono esattamente questi frigoriferi come vedete sono a moli molesti il posto più comodo per riuscire ad ottenere le ghiacciaie voi non state sentendo l'audio ma io ho gente dietro quindi apriamo la ghiacciaia numero uno apriamo la ghiacciaia numero due abbiamo cercato due ghiacciaie e quindi velocemente prepotentemente scappiamo la missione è fatta io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live su twitch ciao ciao